musica e adesso possiamo iniziare subito con il video allora raga quale secondo me è la migliore arma di black ops 3 io l'ho provate tutte o quasi tutte e ultimamente dopo questa patch ovvero la 1.7 sono a parere che il weevil ovvero la mitraglietta che potete trovare ovviamente nella categoria mitragliette è l'arma più forte di black ops 3 ovviamente raga se siete più tipi di fucili d'assalto ovviamente questo video non fa per voi ma questo è un parere mio personale perché io gioco principalmente con le mitragliette ovviamente i fucili d'assalto si li uso però principalmente appunto uso le mitragliette e devo assolutamente dire che il weevil si sta dimostrando un'arma veramente che spacca veramente i culi in sessione cioè in lobby appunto in partita il weevil si può accessoriare con calcio, fuoco rapido e caricatori rapidi ovviamente potete anche aggiungere un mirino ma non ve lo consiglio senza mirino è veramente molto buona oltre a caricatori rapidi se volete oppure al posto di caricatori rapidi potete mettere estrazione rapida che comunque è un buon perk che vi aiuta molto insomma però l'arma in sé raga veramente è devastante io penso sia devastante l'ho provata in tutti i controdutti infatti starete sicuramente vedendo un TCT sullo sfondo del video appunto raga è devastante spacca veramente troppo troppo i culi e credo sia una delle migliori armi che si sta dimostrando appunto molto forte nella patch 1.7 fatemi sapere voi cosa ne pensate di quest'arma ma io penso raga che veramente si sta dimostrando una buona arma quindi fatemi appunto sapere cosa secondo voi o quale secondo voi appunto è l'arma più forte di Black Ops 3 quindi nulla questo raga era un video breve soltanto per informarvi che qual è secondo me a mio parere appunto l'arma migliore di Black Ops 3 e appunto se volete dire qualcosa oppure semplicemente dirmi quale secondo me è l'arma migliore di Black Ops 3 potete farlo qui giù nei commenti quindi nulla spero questo video vi sia piaciuto in tal caso vi ricordo di lasciare un piaccio a questo video per supportarmi iscrivetevi se non l'avete ancora fatto per non perdervi i prossimi video cerchiamo di superare almeno i 150 like per questo fantastico video e nulla passate un'oltre nel canale Telegram, pagina Facebook, profilo Instagram e tutto in tanto trovate tutti i link in descrizione quindi nulla noi ci vediamo in un prossimo video un saluto dalla Foxound Bella